Il Museo delle Civiltà ha in progetto di allestire uno spazio permanente dedicato a queste collezioni. Abbiamo fatto diverse riunioni, ragionamenti con i colleghi e con il direttore. E un po' l'idea è quella di dare una nuova cornice a queste collezioni, ovviamente. Non possiamo rifare il museo, l'ex museo coloniale così com'era. Che aveva una sua struttura, un suo percorso che partiva dall'esaltazione dei personaggi come gli esploratori, i ricercatori, eccetera. Fino ad arrivare alle conquiste e a tutta una serie di aspetti legati proprio alla propaganda sia prefascista che fascista. Oggi bisogna riguardare queste collezioni con uno sguardo completamente diverso. Costruire comunque delle cornici sia antropologiche sia storiche, quindi una prospettiva interdisciplinare che possa presentare al pubblico questa parte di storia italiana. Che spesso non è così al centro dell'attenzione, dell'opinione pubblica. Ci sono stati studiosi, storici, anche recentemente artisti che si sono occupati di colonialismo e di postcolonialismo. Però dal punto di vista della conoscenza generale sappiamo che c'è una forte rimozione. Quindi dovremo in qualche modo presentare la storia del museo e la storia del colonialismo italiano. Cercando di collegare questa storia all'interno dei rapporti più ampi tra l'Italia, l'Europa e il continente africano. È un po' una sfida, una grande sfida. Perché le collezioni sono state raccolte appunto con una finalità di propaganda. Non abbiamo tantissima documentazione sulla storia museografica degli oggetti. Quindi per noi è veramente difficile capire chi ha preso l'oggetto, in quale contesto ricostruire una biografia dell'oggetto e delle collezioni. Però attraverso il lavoro d'archivio, la documentazione, l'idea è quella di costruire comunque un presidio su questo tema. Non c'è in Italia un museo dedicato al colonialismo. Ci sono forse delle sezioni musei storici. Però dare nel Museo delle Civiltà una nuova antenna su questo tema, in modo che si possa fare dibattito. Per tanti anni è stato chiuso. C'è stata proprio una negazione fisica delle memorie e degli oggetti. E quindi già solo l'atto di riaprire, di dare accesso alle collezioni, di far vedere, di mostrare, è un atto simbolico. Già in questa fase la cosa ideale sarebbe lavorare in modo collaborativo, invitare, cioè fare in modo che le varie sezioni vengano anche qui da uno scambio, da un dialogo con il mondo della diaspora, ma anche con studiosi che provengono dai contesti africani. Grazie a tutti.